Anna, mentre mi cambiavo mi sono venuti dei dubbi, vuoi fare un ripassino? facciamo un ripassino va bene va bene allora prima domanda che mi è venuta in mente ma i bambini ma cosa devono fare? ha proprio le basi quindi vabbè va bene te lo dico cosa devono fare i bambini? le foto devono fare le foto alle azioni amiche dell'ambiente alle eco azioni cioè tutte quelle cose che si possono fare tutti i giorni piccoli grandi gesti no? per aiutare il nostro ambiente devono proprio andare a caccia ecco di eco azioni ma tutte queste foto che poi loro faranno le dovranno mettere in un album certo dove è l'album? non hai ripassato niente ma come dov'è l'album? l'album è online è un album digitale guarda vai sul sito www.roar.it entra nell'album hai visto eccolo qua e quindi essendo un gioco devono fare dei punti e quindi ogni foto punti tante foto tanti punti alla fine un fantastico premio ma più di un fantastico premio alicia ce ne sono tantissimi in palio però io avrei un ultimo dubbio cioè sono tanti bambini e tante foto noi come possiamo assicurarci che questi bambini seguano le regole del gioco alicia ma siamo qui per questo il giuramento inizi subito vado io pronta? ciao bambini ciao! ciao bambini ciao bambini ciao bambini ciao bambini Grazie a tutti.